E ciao a tutti bella raga, oggi siamo in un nuovissimo video e allora, siamo insieme al mio amico Nico Vuoi parlare? Ciao ragazzi Allora, stiamo facendo una 2v2 box fight, facciamo io contro lui, però visto che lo spazio è piccolo Facciamo quindi la 2v2, se no 1v1 sarebbe troppo piccolo Allora, no Vabbè però dopo facciamo il normale Siamo Allora Aspettiamo che vada Ok, poi skipiamo, non voglio fare come prima Allora Allora, il primo giocatore ottiene 5 vittorie, sarei incattato come Proviamo Facciamo tipo tre partite con Tre partite con mouse, tre partite No, no, con mouse, no, avviana la partita Avviata Allora, solo armi di questa stagione No, no, cambia, 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 no, non cambia, mi ti mi ti puo un po' viola Ok Ok, vai Ok, vai Rosso Allora Ma perché ti fa andare così in alto? Non lo so Non lo so Ok, prima vinta Ok, vai Ok, vai Ok Ok ani e va bene c'è uno di vita quando poi mi sono curato su uno di vita però ok 11 sì sì allora ragazzi che ora è ci vuole di fare bene Se fa la tecnica che ti ho detto io Ma dove sei? Dai Ma dove stai? Eh non lo so, non te lo posso dire Spara No Svicio arma Ok Eccolo qua E lo sapevo Quanta vita avevi? Pochissima Non ci credo dai Ci banno Aca Brilla 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 Forno 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 Non ci credo, palco duro Siamo un video, ho il video Lo so Nice Nice Io c'ho una tecnica infallibile Oh, chi c'aveva visto? Ah, non è Cioè mi hai sparato, sei uscito mi hai sparato Eh beh, bella Forte come sono, come faccio? Eh, sì, sì Eh, cioè, scusami, fammi dei complimenti Ma perché io ti atterro sempre in testa? Ma perché io ti atterro sempre in testa? Eh? Io vengo sempre in testa tua Quando nasco Mi sono salvato non so come E' un po' come me Eh, ma ci stai C'è la sensibilità diversa Bella, dai C'ho più punteggio di te però C'ho sempre più punteggio Eh, ma perché mi fai di più? Tipo Mi fai cento qualcosa E Quanto danno tutti i danni Oddio, ci ho visto Oddio Oddio Yes Cabo Sì Dai Facciamo una partita normale Hai vinto Lo so C'è una partita normale Io sono una lobby Ma perché? Oh no Vabbè Vabbè Allora di